Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa bianco-rossa in vista della prossima gara che vedrà i ragazzi di Franco Giugno affrontare il noto a Lorenzo domenica 20 ottobre alle 14.30. La squadra è rientrata con un umore diverso, la vittoria a Ragusa ha riacceso l'entusiasmo e la voglia di vincere ancora, vittoria che porta la firma di Bomber Galantucci. Il risultato è importantissimo, era quello che ci aspettavamo, quello che desideravamo da tanto. Adesso per noi possiamo dire che è cominciato un nuovo campionato, da questa settimana in poi inizieranno una serie di partite dove dovremo uscirne vincitori. Abbiamo tutte le carte in regola per fare il bottino pieno, quindi ci prepariamo con calma e saremo all'altezza. Entusiasta ma anche molto tranquillo il tecnico Giugno. La vittoria ha finalmente sbloccato la serie di risultati negativi che il Rende ha accumulato, ma ogni domenica è una guerra in campo. Non sempre vince il più forte e bisogna restare concentrati se si vuole continuare positivamente. Quello che sta funzionando è l'applicazione dei ragazzi, la voglia di fare, di migliorarsi, di essere protagonisti in positivo dopo tanta negatività. Quindi sono loro che vanno in campo, che poi determinano i destini di noi tutti. Quindi si sono applicati in modo davvero encomiabile. Abbiamo giocato un buon secondo tempo, abbiamo conquistato una grande vittoria perché in un confronto diretto in terra sicola non è mai semplice vincere. E questo va tutto a merito dei giocatori. Insomma, è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi? No, non sono soddisfatto. Sono soddisfatto al 50%. Abbiamo prima analizzato le cose che non vanno bene, che sono quando meno uguali a quelle che vanno bene. Quindi dobbiamo lavorare per migliorare moltissimo. Loro ne sono consapevoli. C'è una settimana durissima di lavoro perché quando la squadra vince il morale è alto e quindi puoi lavorare ancora con più intensità, con più determinazione. Puoi, come si dice in gergo, strigliarli al dovere perché risponderanno sicuramente con sollecitazioni importanti.